Attueremo delle forme di controllo molto stringenti sui flussi del PNR, mi ero impegnato in campagna elettorale e costituirò un nucleo ristentissimo e qualificato che controlli quanto più possibile l'anomalia di eventuali flussi perché la mafia guarda a questi momenti. Oggi è una giornata comunque importante per tutti i siciliani, non estima e credo che per un'intera comunità internazionale omaggiare queste due figure che ho avuto l'onore di conoscere personalmente.